Mi viene bene con la chitarra anche perché è una grande canzone di un'allegria estrema come tutte le canzoni che ho sempre fatto, infatti io vado sempre a questo festival che si svolge a Recanati, si chiama il Festival dei Paranoici si trova lì perché dice c'era nato uno parecchio faranoico e da memoria sua si fa questo festival, è un festival diciamo affassimale ma non è un male di evasione, è proprio un male che rimane addosso ragazzi se è successo, uno si è sparato poi abbiato lui ce l'ha fatto questo brano insomma esprime un po' quello che erano giovani di quando ero giovane io quello che sono giovani tipo dei miei figlioli oggi quello che sanno i giovani del futuro se ci saranno ancora giovani perché qui è un mondo di vecchi io e te io e te che ridevamo io e te che sapevamo tutto il mondo era un bidone da far rotolare sì sì perché la bellezza dei vent'anni e il poter non dare letto a chi pretende di spiegarti l'avvenire poi il lavoro poi l'amore sì ma qui che lavoro non ce n'è che l'amore si fa in tre l'avvenire un buco nero in fondo al tram sì ma allora ma che gioventù che è ma che primavera è e la tristezza le ha due passi ti accarezza e ride lei lei sì ma qui che l'amore si fa in tre che lavoro non ce n'è l'avvenire un buco nero in fondo al tram sì ma allora ma che gioventù che è ma che primavera è e la tristezza le ha due passi ti accarezza e ride lei un uomo con la chitarra da solo è già triste per conto suo cosa mi metta a facca vedi l'uva focarina to' altrimenti insomma una chitarra se non ci sarebbe stato guccini con tutta l'allegria e chitarra da solo grazie